Hanno agito in pieno giorno, indisturbati, quattro individui travisati in volto, vestiti di scuro e con fare professionale che alle 10.30 di questa mattina si sono introdotti in un'abitazione, nelle campagne sopra Centinarola. Pensavano di fare un colpaccio, uno che faceva il palo fuori e tre invece che mettevano sotto sopra gli ambienti, di quello che in realtà non è altro che un posto dove il proprietario fa cena con la famiglia o gli amici e dove passa un po' di tempo fuori dall'orario di lavoro. E quindi che mai ci potrà essere? Pasta, olio, acqua minerale, un po' di masserizie. Pertanto sono più i danni arrecati alla struttura, al cancello d'ingresso forzato e agli ingressi che il resto. E considerata la frequenza con cui queste visite si verificano, ben tre nel giro di poco tempo, il proprietario ha anche pensato di mettere un cartello proprio indirizzato a loro. Le immagini della telecamera interna li vede all'opera dove aver percorso a piedi il vialetto di Breccino che porta al cancello d'ingresso, darsi un grande affare all'interno, fiondandosi in tre nel bagno e poi aprire armadietti, dove altro non hanno trovato che buona pasta da cucinare, scatolo in legno con carte da gioco e una porta del magazzino dove c'era ricoverato l'acqua e il vino. E Dulcis in fundo spostano anche un quadro alla ricerca, probabilmente del loro principale obiettivo, una cassaforte, fosse pensando che la struttura di proprietà di un professionista fanese ne fosse dotata e piena di oggetti di valore. Ma della cassaforte in realtà nemmeno l'ombra, solo merendine per la colazione e come sono arrivati così se ne sono andati. Ora sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Fano a cui sono state anche affidate le immagini registrate. Grazie.